L'etf spot di bitcoin è stato approvato e questa notizia ha creato un sacco di volatilità nel mondo delle criptovalute in questo video vedremo cosa è successo in questi giorni per cui dal finto tweet di approvazione da parte della SEC all'approvazione dell'etf e alla volatilità del prezzo in questi giorni e poi andremo a vedere quali sono i pro e i contro dell'approvazione di questi etf spot di bitcoin ok partiamo dal 9 gennaio dove un finto tweet dell'account x della SEC ha praticamente annunciato l'approvazione dell'etf spot di bitcoin infatti qui vediamo quando c'è stato il tweet che parlava dell'approvazione dell'etf spot di bitcoin vediamo come il prezzo nel giro di pochi minuti ha raggiunto quasi 48 mila dollari poi dopo aver raggiunto il picco di quasi 48 mila dollari il prezzo è sceso e dopo poco ancora Gary Gensler ha annunciato che l'account della SEC era stato compromesso per cui il tweet era falso e da quel punto il prezzo di bitcoin è sceso ancora questa cosa ha sicuramente messo in ridicolo la SEC e alcuni si sono anche chiesti se questa cosa ormai non era stata voluta x dal suo lato ha conformato che l'account twitter della SEC non aveva il show factor authentication per cui il livello di sicurezza dell'account comunque non era molto elevato e questo fa sorgere alcuni dubbi e alcune domande visto che chi ci dovrebbe vigilare e tutelare non riesce a tutelare nemmeno se stesso però andiamo avanti in seguito a questa non bella figura della SEC due senatori statunitensi hanno chiesto a Gensler un report sulla violazione del loro account X infatti questi due senatori hanno detto che questo incidente solleva delle serie preoccupazioni sulle procedure interne di sicurezza della commissione i due preoccupati per il recente hack hanno fatto richiesta di avere un report entro il 23 gennaio dove vengono esaminate le vulnerabilità e cosa è successo e quali sono le procedure interne riguardo la sicurezza della SEC inoltre poi come vi dicevo prima X ha confermato che la compromissione dell'account non è assolutamente dovuta a un problema loro ma piuttosto a un individuo non identificato che ha ottenuto il controllo del numero di telefono associato all'account della SEC attraverso una terza parte in seguito diversi funzionali di alto livello hanno fatto eco alle parole di questi due senatori per avere delle spiegazioni sull'accaduto questo perché ovviamente siccome la SEC deve vigilare sul mercato e nel caso succeda qualcosa chiede delle spiegazioni e fa un'indagine in questo caso è lei che ha sbagliato e giustamente è giusto che renda conto del proprio operato e infatti come vediamo è quello che chiede su questo tweet questo senatore però ovviamente la SEC non è che può indagare su se stessa per cui per fare questo la SEC si sta coordinando con l'FBI per indagare sul caso del loro tweet compromesso poi successivamente hanno anche dichiarato che se nel caso loro avessero approvato gli etf ovviamente l'avrebbero scritto sul loro sito e che in quel caso non era stato fatto però c'è da dire che il 10 gennaio quando gli etf sono stati approvati la gente aveva già il link al sito della SEC dove c'era il file pdf che parlava dell'approvazione di questi etf spot però all'interno del sito della SEC non c'era nessun annuncio per cui qualcuno lo sapeva già, sapeva dove era il file però la SEC ancora non aveva annunciato niente e anzi in quel momento chi era nelle varie dirette o nelle chat dove avevano pubblicato il link a questo articolo nel corso del tempo all'inizio era disponibile poi non era più disponibile, poi è tornato disponibile poi dopo un po' c'è stato l'annuncio della SEC per cui anche il giorno dell'annuncio la cosa è stata un po' protratta per le lunghe e un po' travagliata in seguito alla notizia dell'approvazione dell'etf spot di bitcoin il prezzo non ha risentito molto della notizia ma il giorno dopo come potete vedere al grafico il prezzo è arrivato fino a quasi 49 mila dollari anzi in realtà li ha superati leggermente per un momento subito dopo c'è stato un sell di massa da parte del mercato e il prezzo è ritornato all'incirca sui 46 mila dollari per poi lateralizzare poi il giorno successivo il 12 c'è stato un'altra ondata di sell infatti il prezzo dai 46 mila dollari è passato all'area in cui siamo ora sui 43 e mezzo nel frattempo di tutto ciò ethereum ha toccato i massimi degli ultimi 20 mesi anche perché molte persone si aspettano che il prossimo etf spot riguarderà ethereum in seguito all'approvazione dell'etf Gensler ha dichiarato che l'approvazione non equivale a un consenso da parte della SEC per quanto riguarda il bitcoin infatti più sotto troviamo la sua dichiarazione dove ha detto che pur essendo neutrali sul piano dei meriti vorrei sottolineare che gli asset sottostanti agli etp sui metalli hanno usi industriali di consumo mentre al contrario bitcoin è principalmente un asset speculativo e volatile utilizzato anche per attività illecite come ransomware, riciclaggio di denaro, evasione delle sanzioni e finanziamento del terrorismo ha inoltre aggiunto che gli investitori dovrebbero rimanere cauti riguardo alla merida dei rischi associati al bitcoin e ai prodotti il cui valore è legato alle crypto ovviamente ha dovuto dire una cosa così perché diciamo le due verità che potrebbero essere la prima che i fondi avevano talmente tanto potere che praticamente li hanno costretti ad approvare gli etf oppure il secondo caso è che loro non avevano delle motivazioni sufficienti per poter negare la creazione di un etf spot di bitcoin per cui alla fine si sono trovati costretti ad approvare gli etf spot gli etf spot che nel primo giorno della contrattazione hanno superato i 4 miliardi e mezzo di volume totale e hanno fatto meglio del 95% dei listing dell'ultimo anno per finire è ritornata la voce che circle l'emittente di usdc abbia presentato un'offerta pubblica per poter essere quotata questo episodio dell'etf spot di bitcoin ci dimostra come le notizie sia vere sia false possono avere un enorme impatto nei mercati finanziari e soprattutto che gli speculatori sono sempre in agguato e che certe volte chi ci deve tutelare in realtà fa peggio di noi ok per finire cerchiamo di capire quali sono i pro e i contro di un etf su bitcoin per farlo ho cercato qualche articolo che ne parlava e vedremo insieme come comunque i media mainstream non hanno chiara la situazione di un etf in bitcoin ok partiamo dal punto 1 diversificazione è vero che di solito un etf raggruppa un paniere di azioni o un paniere di certi assets e insieme questo ti permette di avere un'esposizione su un determinato mercato però di poter diversificare ad esempio può esserci un etf sulle migliori aziende del mercato italiano un etf sulle migliori aziende del mercato americano e così via in questo caso però non ci sarà alcuna diversificazione perché l'etf di bitcoin conterà solo bitcoin l'unico caso potrà essere fare una diversificazione per chi vuole investire in titoli un etf però non vuole avere a che fare col mondo degli exchange e delle criptovalute in questo caso si può esporre al bitcoin comprando l'etf per cui con uno strumento magari più congeniale al tipo di investimenti che fa di solito migliore convenienza qui ci dicono che un fondo negoziato in borsa fornisce leva al prezzo di questo asset e che in questo caso non è necessario iscriversi a un exchange e affrontare i rischi di possedere direttamente la criptovaluta questo inoltre non ti esporrebbe al rischio di perdere le tue criptovalute perché magari in seguito al furto del tuo hard disk delle tue parole chiave del tuo wallet eccetera eccetera non ho ben chiaro come questa cosa sia più conveniente ma al massimo può essere più pratica per quanto riguarda la convenienza invece dipende un po' dal caso perché se io compro le mie criptovalute su un exchange certo le ho con un tasso di commissione dopodiché le detengo nel mio wallet e a parte diciamo il costo di transazione non ho nessun costo diciamo finché le detengo nel mio wallet e restano ferme lì l'etf invece ho un costo di commissione che abbiamo visto in base all'etf che uno sceglie varia dal 0,12% fino all'1% anno per cui ogni anno andrò a pagare una commissione al fondo che mi gestisce questo etf arriviamo poi al terzo punto efficienza fiscale il denaro digitale è decentralizzato per cui è privo di un organismo di regolamentazione di conseguenza i fondi pensione non possono consentire l'acquisto delle criptovalute tuttavia però con l'etf di bitcoin questo sarebbe invece possibile e in effetti in questo caso è vero quello che dicono però in questo caso non so se si può parlare di efficienza fiscale ma più diciamo di una maggiore disponibilità o la possibilità di poter entrare in questo mercato più che di efficienza fiscale io parlerei di semplificazione fiscale perché pagare le tasse su un etf è sicuramente molto più semplice che pagare le tasse operando con le criptovalute questo perché risalire a tutte le transazioni calcolare le varie plusvalenze in base ai casi se sono imponibili o no è sicuramente molto più difficile nel mondo delle criptovalute ed è molto più facile con un etf per finire io ci metterei anche un quarto punto che un etf renderebbe l'esposizione a questo asset a una vastissima marea di investitori soprattutto magari lato business per cui aziende che avrebbero difficoltà a esporsi a questo asset tramite i classici sistemi con exchange e con l'etf per loro sarebbe sicuramente molto più semplice ok a questo punto vediamo il contro degli etf di bitcoin in precisione dell'etf è vero quello che dicono qua che gli etf in genere tracciano il valore di asset e non lo seguono perfettamente per cui se in un giorno un bitcoin fa un più 10% magari l'etf non lo replica esattamente facendo il più 10% per cui potrebbero esserci delle differenze nell'andamento del prezzo dell'etf e in quello di bitcoin secondo l'atto negativo è la mancanza di proprietà di bitcoin infatti bitcoin è nato come una criptovaluta decentralizzata dove ognuno tiene il possesso delle proprie criptovalute in maniera autonoma con l'etf voi non siete i proprietari di queste criptovalute ma il proprietario ovviamente è il fondo che le gestisce per voi per cui in questo caso ovviamente siete esposti al rischio di una custodia non seguita da voi mettete che il governo decida una certa regolamentazione che possa imporre il sequestro delle criptovalute eccetera voi in quel momento non essendo i proprietari ma i proprietari sono delle aziende che devono sottostare alla legislazione del governo voi in quel caso avete perso l'accesso alle vostre criptovalute e oltretutto a mio parere l'etf è proprio la cosa opposta a quello per cui è nato bitcoin per cui una moneta alternativa al sistema finanziario certo sicuramente anche prima c'erano grossi fondi che iniettavano liquidità su bitcoin ma adesso bitcoin fa proprio parte del mondo finanziario dopo quello che scrivono qui non è vero cioè non è vero che bitcoin da privacy e anonimato tramite la blockchain in realtà quello di bitcoin è un pseudo anonimato ma in realtà è molto difficile essere anonimi sulla rete bitcoin potete essere veramente anonimi se o voi minate bitcoin o se comprate bitcoin da qualcun altro in contanti sicuramente se voi andate a comprare bitcoin tramite un exchange tramite un'azienda che vi vende bitcoin quantomeno c'è il KYC oppure c'è la traccia del vostro bonifico per cui non c'è l'anonimato come tanti sbandierano pericolo di sicurezza o chissà cosa in realtà la gran parte delle transazioni su bitcoin si sa di chi sono poi io ci metterei un terzo punto che è un rischio di centralizzazione la creazione degli etf mette a rischio la decentralizzazione di bitcoin perché avremo pochi fondi che deterranno grosse quantità di bitcoin e quindi la decentralizzazione verrà meno questo può portare anche a un decadimento della rete di bitcoin questo perché se tanti bitcoin restano fermi perché sono posseduti da grosse aziende o da fondi di investimento a quel punto potrebbero esserci meno transazioni nella rete di bitcoin per cui per i miner potrebbe essere meno remunerativo minare bitcoin a quel punto se per molti miner dovesse diventare meno remunerativo minare bitcoin questo avrebbe dei problemi sulla sicurezza della rete bitcoin perché meno gente c'è che mina bitcoin e meno la rete di bitcoin è sicura per finire infine il quarto punto ovvero che con l'etf di bitcoin bitcoin si sta allontanando da quello che era la sua idea originaria infatti l'idea di nakamoto era quella di creare una moneta elettronica libera diversa e staccata dal sistema finanziario ora invece con l'etf di bitcoin possiamo dire che è sempre più legato al sistema finanziario non che prima non lo fosse ma sicuramente anche prima era in parte legato al sistema finanziario ma con l'introduzione dell'etf è veramente cambia cambia tutto per cui questo secondo me è un punto di non ritorno da quella che era l'idea originale di satoshi nakamoto spero che questo video vi sia stato utile per capire gli eventi che sono successi in questa settimana che riguardano bitcoin e l'etf spot ciao ciao